Il giudice sportivo non decide in merito a Due Torri nuova gioiese, ma trasmette gli atti alla procura federale. Come avevamo più volte annunciato, in Serie D scoppia il caso legato ai trasferimenti dell'Orlandina. Il reclamo della nuova gioiese dopo la gara con il Due Torri ha avuto quindi un effetto dirompente e potrebbe avere ripercussioni anche in altri campionati. Sul campo la formazione Calabra fu sconfitta dall'undici divenuto per 2-0. A quella gara presero parte tra le file del Due Torri anche Matinelle e Treppiedi giunti a Piraino con il mercato di dicembre dall'Orlandina. La nuova gioiese propose subito ricorso chiedendo proprio per la presunta posizione regolare dei due giocatori la cosiddetta vittoria a tavolino, cioè il 3-0. Nella giornata di ieri il giudice sportivo ha ordinato, ritenendo preliminare alla delibera sul reclamo la questione relativa alla posizione di tesseramento al momento della gara dei calciatori Matinelle e Treppiedi tesserati presso la società Due Torri, la trasmissione degli atti al Tribunale federale nazionale, sezione tesseramenti per gli accertamenti di competenza. Si scoperchia quindi ufficialmente il pentolone orlandina. Il comitato interregionale vuol vederci chiaro su come sono stati gestiti i trasferimenti dall'anonima e sgarrupata dirigenza che sta gestendo l'attuale disastrosa stagione. Ma l'interessamento della Procura federale, secondo indiscrezioni, già da tempo attivata e non solo per verificare questa conduzione societaria, ma anche per chiarire anche la gestione Romagnoli e De Benedictis, potrebbe quindi portare ad un clamoroso colpo di scena. Infatti, venissero riscontrate gravi irregolarità, l'orlandina rischia la radiazione. E tutte le società che hanno tesserato con il mercato di dicembre e i giocatori liberati dei paladini? Beh, purtroppo, il regolamento parla chiaro, anche perché esistono dei precedenti. Quindi, in caso di tesseramenti non validi, le società verrebbero punite con la sottrazione dei ponti conquistati con in campo i giocatori irregolari. Purtroppo, la telenovela orlandina continua. Purtroppo, la telenovela orlandina